Quindi il titolo di questo video l'ho preso dalle parole di un ministro della Repubblica Italiana, di questo governo. Però voglio dirti sinceramente, niente allarmi, dietro alle parole del ministro di questo governo, ministro della Repubblica Italiana, c'è molto di più, quindi cerchiamo di dare un significato a queste parole che adesso ti andrò a leggere. Oltretutto faremo altre puntualizzazioni per capire un attimo in che situazione viviamo. Grazie alla straordinaria congiuntura astrale, fate finta di, insomma, ignorate l'inizio di queste affermazioni, è un ministro che sta parlando adesso di Tigo anche chi è, perché adesso siamo anche legati, no? L'Italia è legata alle situazioni astrali, le congiunture astrali, mi sembra giusto, ormai non ce l'este che affidarci allo Spirito Santo. Grazie, dicevo, alla straordinaria congiuntura astrale del momento, la Merkel in Europa e del momento di Draghi in Italia, con la Merkel in Europa intende che la Merkel si è depotenziata, no? Vale meno perché se ne sta per andare, ci saranno le elezioni prossimamente in Germania e dal momento che sta vivendo Draghi in Italia, con questo governo di unità nazionale, praticamente nulla è impossibile. È possibile fare tutto o quasi? Quindi parte carico, il ministro intendo. La sostanziale tranquillità rispetto al governo del paese, degli osservatori, delle forze politiche è sotto gli occhi di tutti. Nessun sano di mente può pensare di metterlo in crisi, perché avremmo la banca rotta il giorno dopo. Ripeto, perché avremmo la banca rotta il giorno dopo. Quindi state attenti, no? Stiamo attenti, no? Facciamo questa riflessione insieme. Non tanto sulla banca rotta il giorno dopo, nel caso in cui dovesse cadere questo governo, ma i messaggi che ci vengono lanciati da più parti. Ora è evidente che questi messaggi puntano allo scontro politico che sta per infiammarsi, perché a breve ci saranno le elezioni politiche, no? Scusate, le elezioni comunali in varie città d'Italia, da Bologna, Milano, Roma, eccetera, eccetera, e quindi le forze politiche, siccome stiamo per entrare nel semestre bianco, è molto probabile quindi che le forze politiche se le diano di santa ragione al punto di minacciare la caduta del governo. Quindi questi messaggi arrivano proprio per dare un input chiaro alle forze politiche. Ma il ministro della pubblica amministrazione afferma che saremmo a livello di spazzatura, intende il nostro debito pubblico, siamo a livello di spazzatura, e dovremmo andare a caccia di risorse sui mercati pagando rendimenti che sarebbero multipli di 10, 20, 30 volte i rendimenti che paghiamo oggi. Ci soldi, per intenderci, servono per finanziare la spesa pubblica italiana, spesa pubblica, sono le pensioni, i dipendenti, eccetera, eccetera, ok? Mentre, conclude, a questo governo potenzialmente nulla è precluso. Ora, a cosa si riferisce quando dice a questo governo nulla è precluso? Intende dire a Draghi nulla è precluso. Considerate che proprio la scorsa settimana, cioè nei giorni scorsi, il ministro delle politiche e degli affari dell'Unione Europea ha scritto una relazione programmatica alla Commissione Europea su quella che deve essere la partecipazione nei prossimi anni dell'Italia all'Unione Europea. E in questa relazione programmatica l'Italia sta spingendo, anche se non ne stiamo più parlando all'interno di questo canale, ok, ma stanno andando avanti le trattative, per accelerare sull'emissione del debito pubblico europeo, del debito comune, perché questa è l'unica strada che a noi ci resta per rimanere in piedi. È la linea, in buona sostanza, che abbiamo sempre descritto all'interno di questo canale. Questo per giustificare quello che il ministro della pubblica amministrazione dice questo governo potenzialmente, a questo governo potenzialmente nulla è precluso. Nulla è precluso a Mario Draghi. Ma continuiamo con le parole del ministro. Dice stanno succedendo cose strane, bellissime, meravigliose, abbiamo approvato il PNR, RZ, TX, va bene, quella cosa lì, e le prime riforme nei tempi previsti. Abbiamo preso A+, cioè hanno preso ottimo, no? Come le pagelle alle scuole elementari, e una B nel giudizio della commissione UE sul piano E. Gli investitori stranieri stanno pensando, pensa a te come sono messi, di investire qui, perché l'Italia sembra un paese diverso da prima. Cioè, non serve niente, no? Nel mondo di oggi non servono i fondamentali, le analisi di un paese, le condizioni giudiziarie, economiche, legislative, burocratiche. No, basta che arriva Mario Draghi e l'Italia sembra un paese diverso da prima. E poi ancora continua. Oggi siamo di fronte a un boom economico. Allora, a parlare è il ministro della pubblica amministrazione, Brunetta, che prima, nella prima parte, ha affermato pazzatura del nostro debito pubblico, andiamo in bancarotta, e poi afferma che c'è un boom economico. Il boom economico ci sarebbe, perché è arrivato Mario Draghi. Perché, ripeto, i soldi dell'Unione Europea ancora non sono stati stanziati. Cioè, non è stata messa in moto la macchina degli investimenti, no? Dei grandi investimenti, investimenti in opere specifiche, che fanno girare tanti soldini, ragazzi, o sulla infrastruttura digitale. Insomma, anche in una fase ancora di programmazione, ok? È evidente che è probabile che se questi soldi verranno spesi bene, dubbi sono tanti in Italia, ci sia un boom economico. Ma aspettate almeno che questi soldi vengano finanziati, no? Cioè, perché solo stiamo parlando di 200 miliardi. Ora loro parlano del boom economico, perché il PIL, nell'ultimo trimestre, rispetto al trimestre in cui eravamo chiusi, cioè, in cui l'anno scorso abbiamo perso il 9% del PIL, il PIL è schizzato in alto. È schizzato in alto, l'abbiamo già detto all'interno di questo canale, semplicemente perché se voi vi fate i fatti vostri, la gente lavora, quindi lasciate la libera iniziativa economica agli imprenditori, alle attività produttive, ai lavoratori, eccetera, eccetera, essendoci tanti soldi che in questo momento sono stati risparmiati in quest'ultimo anno nei conto correnti degli italiani, gli italiani vanno e spendono, gli imprenditori investono, l'economia gira, il denaro gira, eccetera, eccetera. Ma non è questo il punto, ne abbiamo già parlato in un precedente video. Il punto, il nocciolo della questione, sono le affermazioni del ministro della pubblica amministrazione, ripeto, un ministro della Repubblica Italiana. Ed è qui, in questo momento, che voglio infilare a piedi pari le affermazioni che sicuramente non vi saranno sfuggite del giornalista della stampa Marcello Sorgi. Va bene, il Marcello Sorgi stiamo parlando di non l'ultimo arrivato negli addetti ai lavori, tra gli addetti ai lavori. Quindi è un giornalista di lunga data, definito un quirinalista, quindi molto vicino al quirinale, ma prescinde dall'entrare nello specifico di queste questioni. Diciamo che è un buon soldatino. È un buon soldatino per dire a nuora perché suocera intenda. Cosa ha detto? Chi è la suocera e chi è la nuora? Vabbè, la suocera sono i politici italiani, sono quelli che devono intendere, coloro che magari stanno pensando di fare uno sgarro a Draghi. È in questa situazione che si infilano le dichiarazioni del Ministro della Repubblica. Voi immaginate a livello economico e finanziario quelle che potrebbero essere ricadute, ma di questo adesso ne parliamo. Allora, cosa dice il Marcello Sorgi? Qualora gli fossero sfuggite queste affermazioni, so che molti di voi sono attenti, ma le andiamo un attimo a riassumere all'interno di questo contesto, di questo video. Dice, di una crisi ad agosto non c'è nessuna voglia in giro ed è sbagliato immaginare che Mattarella abbia le mani legate sostanzialmente durante il semestro bianco. Se Draghi fosse costretto a dimettersi, Mattarella lo rinvierebbe immediatamente alle camere mettendo i partiti di fronte alla loro responsabilità e la confusione cesserebbe tutti insieme. Quindi finirebbe velocemente così, ok, dobbiamo contestualizzare le parole, no? Cioè non strumentalizzare. Qui dice, finirebbe così, ma metti anche che in un intento suicida gli stessi responsabili delle dimissioni insistessero per mandare a casa il banchiere, parliamo di Draghi, non resterebbe che mettere su un governo elettorale, forse persino militare, come è accaduto con il generale Figliolo, per le vaccinazioni. A mali estremi, estremi rimedi. Anche se, conclude Marcello Sorgi, il giornalista, sulla stampa non è affatto detto che ci si arriverà. Ora, ripeto, niente allarmismi in queste parole, cioè non è questo il punto della questione all'interno di questo video. Governo militare, eccetera, eccetera. Il punto è un altro, ed è molto più preoccupante. Almeno per te, che sei di là, che sei un imprenditore, che hai un'attività, stai decidendo se fare degli investimenti, se acquistare una cosa, acquistare l'altra, tu che temi di perdere il lavoro, o che stai cercando il lavoro, o ti stai mettendo in proprio, non lo so, a te questa situazione, a noi, questa situazione dovrebbe un po' preoccupare. Che cosa dovrebbe preoccuparci? Come vi ho detto, cioè a prescindere da come ognuno di noi la pensa su Mario Draghi, perché la mia opinione e la tua opinione sono opinioni soggettive, capite? Ma la cosa oggettiva in tutta questa questione è che se, evidentemente, qualcuno dovesse decidere di far cadere il governo, sapete, no, le diatribe, il Movimento 5 Stelle, che non vuole alcune cose, la Lega che non ne vuole delle altre, che ha minacciato di qua di là, adesso si è messa pure in mezzo la questione dell'MPS per il PD, che è l'unica cosa che gli interessa, le banche. Ma a parte le battute, le conseguenze di un crollo di questo governo sono conseguenze che sarebbero rovinose per il nostro paese. Poi alcuni diranno, non è vero, l'Italia ripartirebbe, usciremmo dall'Euro, dall'Europa, insomma, ragazzi, non catteggiamo, va bene? Cioè, l'Italia è evidente a tutti, almeno a chi non ha il paraocchi, che qualora dovesse accadere una situazione del genere, sarebbe una eutanasia, la chiamiamo un suicidio, almeno nel breve periodo. Poi è evidente che nel lungo periodo le situazioni potrebbero cambiare, questo non mi sembra evidente, ok, ma questo vale per tutti i discorsi. Ovvio che tutto ciò che stanno rappresentando non accadrà dal mio punto di vista, è improbabile che accada, o perlomeno, diciamo così, che in questo paese è meglio dire, è molto, molto, molto probabile che accada. Me lo auguro. Ora, seguiremo la vicenda, seguiremo la vicenda, ma la seguiremo senza farci confondere le idee. Quali idee? Cioè, nei prossimi mesi, agosto e settembre, siamo in pieno di una campagna elettorale, ok, e le parole contano quello che contano, visto che si voterà alle elezioni, insomma, amministrative, il 3 e il 4 di ottobre, se non erro, hanno deciso, del 2021, di quest'anno. Però una cosa resta chiara, dalle affermazioni, no, di questi signori. L'Italia è messa male. Perché? Perché è appesa, questo è il punto, no, oggettivo, è appesa ad un solo uomo, Mario Draghi. Cioè, la politica non esiste, voi guardate un attimino, io vi avevo rappresentato quale sarebbe stato il modo con cui si sarebbe mosso il governo Draghi e i rapporti di forza con le forze politiche. Governerà Draghi, vi ho detto, su alcune cose, i partiti politici potranno dire di qua la riforma penale mi cambia sta roba qua e il Green Pass mi cambia dopodiché decide lui. Non so se è chiaro. È ovvio che ci sarà un accontentino di qua, un accontentito di là, lo ritroveremo nella riforma degli ammortizzatori sociali che dovrebbe riprendere, essere discussa nel mese di settembre, la ritroveremo nel, per quanto riguarda la sinistra, li accontenteranno un po', per quanto riguarda la destra ci sarà la riforma fiscale, magari ci sarà una flat tax fino a 100.000 euro, li accontenteranno anche di là. Un po' di accontentini, quella, la realizzazione delle cartelle, tutte queste robe qui. Ma se il Green Pass sa da fare, Draghi si dice che quella è la direzione, il Green Pass si fa. Se la riforma penale, non la riforma civile, hanno fatto la riforma penale, ma non voglio entrare in questi argomenti. Comunque, la riforma penale deve essere fatta, io ti sistemo di qua, ti sistemo di là, tu fai un po' di propaganda televisiva, va benissimo così, e la riforma penale viene fatta. Ovviamente, non c'è nessuna discussione tra i partiti politici su quella che è la politica economica e monetaria, chiamiamola così, la linea dell'Italia rispetto alla politica economica e monetaria dell'Unione Europea. Lì, cioè i partiti politici, zitti, silenzio, parla Draghi, punto. Quindi l'Italia è appesa, ancora una volta, la storia si ripete, all'interno di questo paese, al un solo uomo. Il nostro destino dipende da un solo uomo, l'uomo della provvidenza, cioè Mario Draghi. Questo è il format che stiamo vivendo ormai da decine e decine di anni di fronte alla scelta inconsapevole che ancora la cittadinanza italiana fa nel guardare e nell'immaginare come unica soluzione un potere che si concentra sulle mani di un unico uomo o di un unico partito completamente centralizzato. Senza di lui, ragazzi, è bancarotta. E questa non è propaganda, è proprio così, ragazzi. con tutto ciò che una situazione del genere potrebbe scatenare all'interno del nostro paese. In fin dei conti, le osservazioni di Brunetta e le osservazioni di Sorgi sono simili. Cioè, cosa ci dicono insieme? Guardate, state attenti, vi stiamo avvisando che qualora dovesse passare dalla testa di far cadere questo governo, far cadere questo governo vorrebbe dire azzoppare draghi. Se azzoppate draghi, i mercati finanziari ci puntano di brutto, dopo una settimana, due settimane, forse neanche un mese, non si pagano, ok, stipendi e pensioni e automaticamente il Presidente della Repubblica immaginate la situazione in Italia, nelle piazze italiane, no? Vi ho già detto all'interno di questo canale diritti, dove eri in Italia, diritti dove c'è in Italia, l'unica cosa che non devi toccare ai italiani sono i soldi. Capisci? il pantalone, il portafoglio, ok, si creerebbe una situazione tale da poter configurare una cosa che in questo momento insomma è fantascientifica, quale potrebbe essere un governo militare. Stiamo a vedere, insomma, questo paese ci si diverta. a vedere,